Renzi, ieri sera a otto e mezzo ti hai fatto il tuo spettacolo. Hanno altri popoli italiani, ci hai fatto andare da attraverso la prima communion. A parte che sembrava che ti te fossi il conduttore e la Lily Gruber ospite, però a te che è un bel coraggio, a te che è un bel coraggio presentarti a dire tutte quelle pantomine che ti hai detto. Ti hai distrutto un paese, continua a dire ho sbagliato, sbagliato, a commiserarti quasi te credessimo che adesso potremmo darti ancora fiducia. Ma con che faccia ti è presentito uno che è super dichiarato, che se cava fuori dai maroni, se combina dei danni e ancora hai coraggio di presentarsi, primo. Secondo, continua a dire ho sbagliato, ho sbagliato. Guarda che gli uomini sbagliano, ma i grandi uomini chiedono scusa. Ti scusa ancora, non ne abbiamo sentite. A parte che, scusa, noi popolo non siamo ancora disponibili a farti sì che ti fassi esperimenti su di noi per vedere se sei capace di governare. Perché qua, se dici che la disoccupazione giovanile è diminuita, per forza, perché sono diventati adulti nel frattempo. Ascolta, Renzi, continui a dire che adesso all'ingotto farai vedere tutte le tue proposte. Ma se cazzo me ne frega me delle tue proposte. Noi altri non abbiamo bisogno di proposte, abbiamo bisogno di soluzioni, di interventi. E lì, dove che sta il terremoto? 12 casette, te rendi tuo conto? E stratte a sorte, e sema febbraio. E tu vieni a dirmi che all'ingotto farete delle proposte per il popolo che da qualche mese non si fa altro che parlare, 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 non si combina niente. Oh, ma guarda che te ti si sta anni a parlare, 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 a fare disastri. Adesso, perché finalmente si comincia a parlare con tutti i disastri che avevi fatto. Porca mosca, l'era ora che qualcuno si occupasse della stampa di tutte le tue miserevoli disgrazie, no? Perché fin l'altro giorno, che era solo da parlare della Raggi, adesso finalmente sto traffico di influenze, che non so cosa vuoi dire, vuol dire che non so, mi metciapo l'influenza, dopo che la passo il Beppi, il Beppi che la passa il Tony, non so che razza del reato che sia. Dico, Renzi, abbia almeno la coscienza di metterti da parte, abbia la coscienza di dire che noi popolo siamo costretti fra poco a fare la rivoluzione perché non avete il coraggio di dire che neanche un mese ci portate l'IVA dal 22 al 24, perché ieri sera non hai detto che l'Europa ha già dato ordine a Paduan che l'IVA deve andare al 24. Ma cosa pensavo? Che aumentano i consumi. Ma cosa pensavo? Noi altri abbiamo bisogno della lista dei bidonitisti del Monte Paschi dei Siena. Questo è quello che ci devi dare se hai una coscienza. Abbiamo bisogno di capire dove andrà a finire i nostri soldi, dove quei pochi risparmi che abbiamo si è ancora sicuri dentro alle banche. Abbiamo bisogno di capire cosa, caspita, vuole fare PD. Ma sapete che la gente del Padova vuole cambiare le targhe della macchina per chi si vergogna deve essere scritto PD dietro al culo della macchina. Cioè, ma mi guarda, mi fermo perché, Renzi, dammi una risposta. Va fuori dai maroni e mette gente con i maroni veramente che mi risolve i problemi. Abbiamo bisogno di risoluzioni, risoluzioni e non di questioni. Basta parlare. Basta parlare. Basta parlare.